Buongiorno a tutti, sono Renato Masoni, titolare dell'agenzia che gestisce WMD in campagna e per clienti speciali. Il rapporto con questa azienda è nato tramite un amico, Luca Battaglini, che è amministratore delegato alla società e si è poi sviluppato con gli altri personaggi che gestiscono il business quotidiano, quindi Nicoletta, Cristiano e le ragazze all'ufficio che hanno un approccio molto friendly, sia alle problematiche commerciali sia alle soluzioni post-venta. Questo è molto prezioso per noi, che non abbiamo tempo da perdere e quando abbiamo un problema di un rivenditore abbiamo bisogno che l'azienda ci dia risposte in tempi tecnici ragionevoli e soluzioni. Ad oggi penso che non si possa avere un rapporto più soddisfacente con WMD, nel senso che noi sviluppiamo un business che ci rende contenti entrambi, in piena espansione. Abbiamo molto ancora da fare, l'azienda ha le spalle forti e sta facendo investimenti per affrontare i prossimi anni con argomenti molto convincenti per il mercato. Quindi direi che questo è solo l'inizio. Grazie a tutti.